Vi ricordate qualche giorno fa la puntata di Porta a Porta, tutti quegli uomini che parlavano di aborto? Bene, nel programma di Geppi Cucciari c'è stata una specie di parodia che ho amato tantissimo. Infatti Geppi Cucciari ha deciso di fare un talk invitando solamente donne per parlare di SUV, così a cazzo, e impotenza maschile. Vi faccio ascoltare un pezzettino dell'inizio perché veramente fa morire, sono super serie. Un po' come lo erano i tizi a Porta a Porta, peccato che loro facessero sul serio. Con la domanda, comprarsi un SUV può essere un rimedio efficace contro l'impotenza maschile? Comincerei da Valeria Solarino. Beh, innanzitutto c'è da dire che negli ultimi anni sono stati fatti dei grandissimi passi avanti in questo senso, perché prima diciamo che i macchinoni potevano permetterselo in pochi, c'erano più che altro le utilitarie. Adesso invece ci sono i SUV... Ora, speriamo che l'anno prossimo Geppi Cucciari sia ancora in Rai, comunque Geppi, se mai vedrai questo video, sappi che ti amo dal giorno zero, da quando tornavo a casa da scuola per andare a vedere belli dentro. Niente, questo era un po' un uso personale di questo video per dichiarare amore a una donna che amo da sempre. Se non avete visto la puntata, comunque andate a recuperarla su RaiPlay. Il programma di Geppi Cucciari si chiama Splendida Cornice.